Ha già pensato ai regali per il prossimo Natale? Sì, appunto, il problema è che mi angoscia tutto l'anno. E quest'anno spenderà più o meno dell'anno scorso? Spenderà più o meno lo stesso. Sì, alcuni pensieri per gli amici vorrei fare sulla gastronomia però. E spenderà più o meno dell'anno scorso? Più o meno lo stesso. Beh, tutto l'anno. Io quando vedo qualche occasione, promozione eccetera, prendo. Cerco sempre di non spendere mai troppo perché non sono una consumista di natura. Avete trovato le persone sbagliate. Sì, già fatti, diciamo questo, in estate per evitare di incorrere in aumenti di prezzi impossibili. E spenderà più o meno dell'anno scorso? Più o meno. Sì, però solo per fidanzate e parenti più stretti. E quest'anno spenderai più o meno dell'anno scorso? Meno. Questo a causa della crisi economica? Ma non so se a causa della crisi economica, in parte, penso sia una concomitenza di fattori. Vabbè, la crisi è mentale secondo me, sinceramente. Andrò nelle gastronomie, andrò nei paesini, cercherò sempre le cose particolari, per cui è un stato mentale per me la crisi. Anche, e poi perché non è neanche tanto giusto buttare via i soldi, quando si può evitarlo. A fronte della crisi economica, quest'anno secondo lei si spenderà meno? Ma questo sai, io non posso saperlo, perché poi si sente che tutti i viaggi sono già prenotati, mette esotiche. Non ho più le idee chiare assolutamente, non lo so adesso i negozianti se si risentono di questa crisi o meno, non ho idea. Ma io certo sento che c'è la crisi personalmente, perché è chiaro che i prezzi sono aumentati a dismisura. Questo si avverte che c'è questa crisi, evidentemente. Che poi la gente non sappia rinunciare, magari faccia debiti per andare a fare un viaggio, evidentemente. Io personalmente, della mia generazione, non farei mai una cosa del genere. Non farei un debito per comprarmi qualcosa, rinuncio e basta. Ma tu pensi che si senta questa crisi o sia solo montata dai media e dal giornalismo? Onestamente penso che sia reale. Penso che i media, anzi, in una prima istanza, abbiano l'interesse nel mantenere la cosa, come posso dire, il più... Perdonatemi. Nascosta. Non è nascosta, cercare di vederla in maniera più ottimista possibile, per non bloccare i consumi. Ma se gli stipendi si abbassano, i consumi si bloccano. Se si bloccano i consumi, si blocca l'economia. Pare che si morde la cuore.